Il treno Tropea Line, 5477, di Trenitalia, proveniente dalla Mezzia Terme Centrale, è diretto a Reggio di Calabria Centrale, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Scilla, Villa San Giovanni, Reggio di Calabria Lido. Il treno Tropea Line, 5476, di Trenitalia, proveniente da Reggio di Calabria Centrale, è diretto alla Mezzia Terme Centrale, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Franca Villa Angito La Filadelfia, San Pietro Amaida Maida.